Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato alla 1.16 Si è appena spento il fuoco di fianco a me, ma si accende il fuoco dei costruttori Perché la 1.16 aggiungerà un sacco di nuovi blocchi al gioco E ovviamente una delle domande fondamentali che ci facciamo mentre rimaniamo nell'oscurità Ma non all'oscuro dei segreti delle costruzioni Sarà come utilizzarli per delle costruzioni creative E quindi ragazzi, in questo mondo super flat ho preparato 10 situazioni Dove potremo utilizzare nuovi blocchi in maniera creativa, in maniera originale e diversa, diciamo, dalle intenzioni originali Di fatto, questo è un video con 10 building hacks con i blocchi della 1.16 Il primo blocco, ragazzi, sono le rovine antiche Questo blocco potrebbe essere considerato il minerale grezzo del nuovo materiale del Nether, la nederite Ed è un blocco davvero molto strano Per certi versi è anche molto brutto e poco utilizzabile Nessuno lo utilizzerà per costruire Perché è così raro che sarebbe un peccato Ma volendo azzardare qualcosa Mi è subito venuto in mente un'idea molto particolare Ho preparato questo piccolo alloggiamento Dove poter costruire, ragazzi, un albero È perché sto utilizzando questo blocco Perché questo blocco è incredibilmente simile al legno di una palma E quindi noi possiamo costruire molto facilmente una palma Utilizzando questo blocco che ovviamente non è pensato per questo Ma volendo esagerare in maniera creativa Lo possiamo fare Possiamo addirittura con un bel set block Andare a metterci, che cosa? Le piantine di cacao Sì, che magari se si giresse dall'altra parte sarebbe anche un po' più carina Un ringraziamento speciale al debug stick Che ci aiuta sempre Come vedete, ragazzi, sembra davvero una palma Una pianta tropicale E questo blocco è molto adatto per fare un lavoro del genere Ecco, in questo video voglio mostrarvi dieci trucchi di questo tipo E quindi è il momento di chiedervi Se ovviamente l'idea vi piace Di lasciare un like E di farmi sapere se volete altri video del genere in futuro Magari sfruttando le prossime novità di Minecraft E ovviamente nei commenti Fatemi sapere quali delle dieci idee O quale delle dieci idee Vi piace di più E andrete sicuramente ad utilizzarla nei vostri mondi Numero 2 Il legno della Warped Forest Ragazzi, questo legno molto particolare Si presta a varie situazioni La pianta della Warped Forest È poi fatta da questa versione blu Del blocco di Netherworld Anche se in questo caso non c'entra niente In più abbiamo un sacco di derivati Di cose molto interessanti Nonché una bella palette di blocchi azzurri E anche abbiamo per dire le lanterne azzurre Di questo Nether Update Quindi come sfruttare tutte queste cose In maniera creativa E diciamo inaspettata Innanzitutto raccogliamo tutti i blocchi E vediamo che cosa riusciamo a fare La prima idea che mi è venuta in mente È quella di accostare Il tipo di legno Che abbiamo nuovo Alla Prismarine E sapete che c'è Ci sta da dio Ovviamente questo legno viene dal Nether Però è straordinariamente adatto Per costruire Un monumento oceanico O per buildare qualcosa Sott'acqua ragazzi Addirittura Potremmo pensare di utilizzare Quella che è un po' La foglia dell'albero nuovo Che in realtà è un'altra cosa Però vabbè Per creare delle piantine Magari con un arbuscello secco sotto E con il pot Per creare appunto La piantina messa nel vaso Vabbè Ovviamente l'assaccionata si attacca qui Cosa che non vogliamo vedere Ma ragazzi la cosa più sorprendente È la porta La porta è davvero molto bella Ma soprattutto Provate a unire le due porte insieme E ragazzi Uscirà un volto Quello che sembra Davy Jones Ora potrei star volare con la fantasia Ma guardate Le maniglie sono degli occhi Questo È il classico cappello da pirata È il contorno del cappello da pirata E qua Ci sono Quei baffoni Fatti di tentacoli Di Davy Jones Secondo me non è un caso Questo pattern E infatti questo Set di blocchi È stato pensato appunto Per mischiarsi bene Con i blocchi Dell'oceano Ma non è finita qui Perché il log Strippato In realtà Si adatta anche a un'altra cosa Guardate che bell'accostamento Che fa Con la concrete bianca Può diventare Un elemento Molto utile Per creare Una casa moderna Guardate come si abbina bene Trucco numero 3 Prevede l'utilizzo Del basalto Ragazzi Questo nuovo tipo di roccia Può sembrare Nulla Può essere sottovalutato Ma a me piace davvero tanto In questo caso Ve lo voglio far vedere Come Versione più scura Della cobblestone Perché se ci fate caso Questa facciata Ha la stessa texture Della cobblestone Ma è più scura Per l'appunto Quindi Come potremmo sfruttarlo In questo modo Ad esempio Qui abbiamo una piattaforma Di cobblestone E qui sopra C'è dell'acqua Come vedete Che sgocciola Attraverso la botola Bagnando il terreno Ecco Se mettiamo sotto Del basalto Creando una sorta di Macchia Di basalto Sembrerà Che lo sgocciolamento Dell'acqua Si è andato a creare Una macchia Di umidità Nel terreno Quindi l'acqua Sgocciolando sulla pietra L'ha inumidita E per questo Il basalto Viene utilizzato Per fare una cobblestone Con effetto umido Ma non solo Immaginate Che questa croce Abbia un'ombra Ecco Creando la stessa forma Della croce A terra In questo modo Sembra che la croce Stia gettando la sua ombra Sulla cobblestone Tutto utilizzando Il basalto Tutti i trick che vedete Sono un'unione Di idee mie Idee avute in live Insieme a voi Quindi anche qualcosa di vostro E qualche idea Presa dalla community Di minecraft In generale E a proposito Di community nostra So che stasera C'è la finale di Sanremo Ma molto più interessante C'è la finale Del torneo di pvp Dove 32 giocatori Si sfideranno In un'arena E io Sarò con un Co-conduttore D'eccezione Tearless E commenteremo Uno degli eventi Più grandi di sempre Di pvp Nel server Di sub Vi aspetto alle 20.30 In live Quarto trick Che lo abbiamo già spiegato In realtà Negli snapshot I muretti adesso Se posti uno sopra l'altro Vanno a rimuovere Come vedete E anche a buggarsi Parecchie volte Apparentemente Ma vanno a rimuovere Il gap Che andava Insomma A creare dei buchi Tra un muretto e l'altro Quindi il muretto In questo modo Diventa una parete unica Che ovviamente È più sottile Rispetto al blocco Ma quindi A parte questi Schifosi bug Che si creano Per qualche ragione Quindi Quanto è ampia Questa parete E ampia un terzo di blocco Potremmo così dire Di essere di fronte Alle slab verticali Ora Non sono le slab verticali Che tutti Vorremmo Ma forse sono quelle Che ci meritiamo No vabbè A parte gli scherzi Questo piccolo trucco Quelli di Mojang Non potendo inserire Le vere slab verticali Ci hanno comunque Dato un modo Per creare Delle pareti verticali Più sottili Dal normale blocco E questa cosa È davvero una figata Ovviamente Questi muretti Hanno sempre il contorno Il contorno A forma di muretto Come vedete Ma utilizzando il debug stick E andando a prendere L'opzione giusta Che adesso dovrò trovare Perché non è per nulla facile Eccoci qua Possiamo andare A togliere Il muretto E possiamo in questo modo Ottenere una parete liscia Che sembra Una parete di mezzi blocchi Unico inconveniente È trasparente di lato Questa texture Probabilmente non è prevista Ma insomma In questo modo Hanno praticamente Aggiunto I mezzi blocchi Verticali E potremmo realizzarli Con vari tipi di materiali Essenzialmente Tutti questi muretti qua Passiamo ora Al crimson Wood Se possiamo definirlo così Non è tecnicamente legno Ma è un set di legno Alla fine Abbiamo già visto La sua controparte Della Warped Forest Il legno Della Crimson Forest Ci ha un po' stupiti Perché diventa rosa E non rosso Come ci aspettavamo Ma probabilmente Non è un caso Anche in questo caso Che abbiano deciso Di fare Questo legno Di questo tipo Qui abbiamo una porta Molto bella Anche la porta di Crimson Ma molto bello Il set in generale E questo set Ci sta davvero bene Abbinato Con I Purpur Block In particolar modo Avevo visto online Un design Che vorrei replicare Che prevedeva L'utilizzo di Scale Per creare un po' di profondità In questo modo Di Botole Per creare una sorta di Griglia Che potrebbe anche Fare da Finestra In qualche modo Ma soprattutto Le porte Perché queste porte Essendo che non hanno Buchi Come può essere Ad esempio La porta di Acacia Anzi di Giungla In questo caso Che ha questi buchi Questa sorta di Finestrella Possono essere utilizzate Per creare Una parete Ragazzi E Una parete anche Molto Molto bella E credibile Quindi può essere utilizzata Come blocco Di costruzione alternativo Vedete come ci sta Tutto bene Accostato al Purpur Come elemento di Contrasto E magari con un fondo Come in questo caso Di terracotta Viola Per fare un pavimento Leggermente più neutro Settimo trucco Prevede l'utilizzo Dei nuovi blocchi Per creare qualcosa Di organico Di solito una delle sfide Più difficili in minecraft Ma il tutto È partito Guardando il nuovo blocco Delle Weeping vines Che mi ha davvero Ispirato A fare qualcosa Di particolare Ma non solo Prendiamo anche questi blocchi E vi faccio vedere Le mie idee Allora Vabbè La lana rossa L'ho fulminata Chiaramente La prima idea L'ho vista su reddit Quindi in questo caso Non è una mia idea Questa struttura Che ho costruito Serve ad appendere Un calamaro gigante Come lo crea Un calamaro gigante In minecraft Lo crea in questo modo Quindi ovviamente È rosso È gigante Agli occhi alato Ma fino ad oggi Mancava qualcosa In questo calamaro I tentacoli Con le weeping vines Possiamo creare I tentacoli Di un calamaro gigante Bellissimo È molto semplice Da ricreare Inoltre Quello che ho pensato In questo caso Io stesso È che Le weeping vines Se accostate A un blocco Di quarzo Liscio Come in questo caso Possono ricordare Un occhio Strappato E all'interno Del nether Potrebbe essere Qualcosa di davvero Creepy Ed utilizzabile Ad esempio Il bulbo oculare Potrebbe essere completato Con una pupilla Di un colore Come può essere Il bottone azzurro Per creare Un iridi azzurra O ad esempio Una dark oak Un bottone di dark oak Per creare Il classico occhio scuro Però questi sono Letteralmente Degli occhi strappati Vedete voi Se è utilizzabile Però il trucco è fico Dai Trucco molto semplice Ho creato questa piccola pozza Dove andare a mettere La soul soil La soul soil Quindi Il suolo delle anime Ha una bellissima texture Quando è combinato Con altri blocchi E può essere utilizzata Per rappresentare Una pozza di fango Come vedete Tra l'altro ci puoi anche Camminare sopra Agilmente Quindi ci sta davvero Un botto Una bella pozza di fango Ma non è Tutto qui Perché Come sapete Per creare un Wither Boss Dobbiamo utilizzare La soul sand Che non è così Diversa Dalla soul soil Alla fine dei conti E quindi Noi ora Possiamo creare Un totem Del Wither Boss Utilizzando La soul soil E ovviamente In questo caso Anche se sembra reale Non si attiverà mai Perché non è la soul sand Se volete Costruire un totem Non attivato Del Wither Potete utilizzare Questo trucchetto E avrete In questo modo Un finto totem Magari per far Spaventare i vostri amici O magari Per creare Una statua Nel vostro mondo La nuova vegetazione Del nether Mi piace davvero Un sacco Soprattutto Se sperimentiamo In qualche modo L'unione Dei due colori Dei tipi di alberi E per creare Insomma qualcosa Di diverso Di nuovo Come in questo caso Davvero molto carino Secondo me L'accostamento Ma non è tutto qui Dobbiamo uscire Un attimo da questo mondo Perché vi faccio vedere Una cosa ancora più interessante Infatti se andiamo a creare Un mondo di tipo Buffet E lo andiamo a customizzare Cercando la generazione Surface Quindi la generazione Dell'overworld Selezionando poi La Warped Forest Possiamo creare Un mondo Nell'overworld Dove l'unico bioma È la Warped Forest E secondo voi Che cosa esce? Ma ovviamente Un bellissimo Mondo alieno Ok forse non era così ovvio Ecco voi Un bellissimo mondo alieno Con tanto di pozze d'acqua Ma anche Focolari qui e là Particelle Nell'overworld E una tenue atmosfera Che lascia intravedere Questo unico satellite alieno In un mondo davvero desolato E abitato da strani Uomini Bislunghi Se volete creare Una custom map Con un mondo alieno Potreste partire da questa base Oppure magari Potreste voler creare Una foresta distrutta Devastata Da un incendio Ok in quel caso Prendete un suolo di gravel E utilizziamo di nuovo Il basalto In questo caso Per costruire qualcosa Di diverso ancora Infatti il basalto Prezzo nell'altra Sua texture Non sembra cobblestone Ma sembra in realtà Una sorta di tronco Quindi capirete bene Che se Posizionato In modo da creare Dei finti rami Potrebbe diventare Un interessantissimo Albero In men che non si dica Guardate un po' qua Se non sembra Un albero Andato a fuoco E carbonizzato Inoltre a terra Potremmo mettere Qui e là Della concrete powder Grigia Per dare l'idea Che ci siano Dei cumuli di Polveri Di cenere E quindi magari Creare anche Delle dunette Qui e là In questo modo Abbiamo il nostro albero Carbonizzato Le cui foglie Sono diventate cenere Che ricoprono Il terreno Ormai interamente grigio Ci si potrebbe creare Un intero bioma Così E secondo me Verrebbe molto Molto bene Fine da qualcosa di triste Passiamo a qualcosa Di più allegro Di più luminoso Potrei quasi dire Perché andiamo a vedere Delle luci Allora Le nuove fonti di luci Sono essenzialmente Oltre che Vabbè La torch Che abbiamo bypassato Il fungo luminoso La lanterna azzurra Che si contrappone A quella normale E il fuoco Chiaramente Una cosa che Mi è piaciuta Molto È la contrapposizione Tra i due set di blocchi Della crimson E della warped forest Che si adattano anche Utilizzando i due tipi di luce Ad esempio Da questa parte Noi possiamo mettere Una lanterna normale E da quest'altra Una lanterna blu E vedete che Sembrano davvero Due tipologie Alternate Due quasi Rivali Con uno stile Molto simile Ma le colorazioni Si adattano In un caso In un modo In un caso Nell'altro Stessa cosa Vale per il fuoco Ora questa cosa Che ho creato Non ha senso Non è forse utilizzabile Ma mi piace vedere Come possiamo creare Due set alternativi E assolutamente validi Con questi due tipi Di illuminazione Infine Volendo creare qualcosa Di più utile Ho pensato A una sorta di lampadario Che potrebbe essere In una costruzione fantasy Utilizzando il nuovo fungo Che si adatta molto bene Con le botole Azzurre Che lasciano intravedere Un po' La sua superficie E sopra abbiamo Questa alternanza Di blocco Azzurro Appunto Muretto di prismarin E di nuovo Staccionata azzurra In modo da creare Un lampadario Un po' fantasioso Un po' fantasy anche Bene ragazzi Abbiamo visto 10 trucchi Per utilizzare In maniera diversa E creativa I nuovi blocchi del nether Fatemi sapere Quali preferite E se ne utilizzerete Qualcuno Nei vostri mondi Detto ciò Io vi saluto Vi invito di nuovo A passare Il live stasera Alle 20 e 30 E a lasciare un like Se il format Vi è piaciuto Un saluto da Eren Ciao A tutti